stasera pasta asciuttina carbonara carbonara perché ci avevo tutto in casa allora quando la fai parte prima cosa è fondamentale la pasta non avevo un pacco così a caso ho preso la mia poi parmigiano 36 mesi un po di pecorino il guanciale ho trovato questo avevo in cantina mio le uova uguale c'è un po in frigo e guancialino discreto ora si va a fare il taglio a cubetti o a striccioline iniziamo a tagliare il guanciale cubetti anche belli grossi test si buono ma allora quante ce ne va messe mezz'olino di pasta siamo un quattro botte che dice mettici sei ova sei ova questo guanciale va fatto sfrigolà ma piano 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 vai formaggio quanto è butta butta anche quello ne sale vai vai metti ce lo dirò un po di parmigiano un po di peorino la crema è pronta ora ci mettiamo un po di grassetto che ha cacciato il guanciale l'acqua bolle arriva lei mamma mia sti spaghetti che bellezza pasta è pronta quasi pronta ora si va in padella un po d'acqua di cottura si salta mamma mia che crema che crema ora buttiamo l'uovo vai ci siamo siamo stemperà un po in una pasta buttiamo la crema vai 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 tutta vai che bellezza vai nemmeno mescolate vai mamma mia che crema che crema vai la crema è importante ma via con il guanciale vai bella e ora una grattatina vai pronta 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 pronta